Ciao a tutti ragazzi, io sono ShowerFuzz, oggi siamo adorati su GorillaTag, oggi sono da solo, purtroppo, e non ci posso fare niente. Questo è indiamoniato, questo è Wolfie, anche lui indiamoniato. Oggi, non sei da solo. Ehi, lui è, lui è... Lui, ti... Lui è un nuovo membro di coloro che fanno i vini. Lui è un video, lei, ui, 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 ui. Ha! Andiamo, ui, 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 ui. Ok, va bene. Certo, pure io sono proprio stupido. Ma io, ricetti suoni! E niente, non mi rispetto più. Allora, questo è un video di... Tag. tag e presentazione di wolfie quindi quest'oggi wolfie sarà la monkey bullizzata anche se è molto forte quindi è probabile che lui mi bullizzerà me però dettagli ma un wolfie scendi un attimo ora tu mi dici la neve non c'è giusto mi spiega che cavolo servono quei robbie stessa cosa per quello ok capisco c'è la neve va bene ma non c'è c'è o li usi tipo che fai però non ci arrivi perché sei una monkeys monkey daia è dato che non ha soldi da usare cose serie le usi queste cose non funziona tra l'altro io ti dovrei taggare top 5 scades numero uno ciao forza con pescare e scari alert ma devo dire prima oddio che figo guarda sta piovendo e quindi c'è tutto smog come si dice scimmia in tedesco volevo dire sono una scimmia in tedesco ma non mi ricordo come si dice scimmia se lo sapete scrivetelo nei commenti se esiste qualcuno che utilizza i commenti in questa account su questo account scimmia in questo momento se storico se numero uno già scari e cos'era momento abbo foto stanga io ho preso il rametto esattamente come voglio il replay ok non era calcolato sono smonky oh se non sono tanto smonky sono preso il divano no 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 tipo il mio divano divano io allora non so se si sentirà però tipo ecco questo è il mio divano si è sentito almeno io l'ho sentito non so se in video si sente tipo invece non so dove perché esattamente lì ci sta una vetrina non poco vetrina però ci stanno tutti i gocci scorpioni mummificati e tutto vabbè non fate domande c'ho il corso davanti una volta ci sono andato addosso e ho preso il vetro in pieno e non si è rotto ma si è tutto rigato e dettagli che nessuno che nessuno è più stupido di me i piccoli segreti mi si è sminchiata la visione per un attimo ti devo raccontare una cosa a una volta ieri e l'altro ieri mi ricordo e poi che parole c'era era l'ultimo non taggato faccio così mi metto qua sotto panico quindi faccio tipo faccio e non mi riesco a mettere oh scusa vai puoi taggarmi arriva uno da qui detto dai sbrigati sbrigati mi prende io mi giro mi vedo sta scimmia qua che sta tipo così che vola e va boom mi tagga mi partono i controller per fortuna c'è di sempre la sicurezza mi raccomando mi partono i controller mi devo il visore spengo mi butto sul computer a non fare nulla possiamo ripartire ma non fate così come wolfie perché wolfie non cercate quello che ho appena detto su google traduttore non mi dirò la lingua perché sono family friendly sperando che youtube non sia tedesco scherzavo che lingua l'avrò mai detto mica in tedesco no era turco quello turco era mai con era era mai contigo vabbè comunque nel dubbio sto arrivando ciao no no ho corso posso parlare no è niente se ho avuto tipo tanto porca vacca cosa è successo oddio ah wolfie ciao ora arrivo arriva wolfie e ti cerca di azzannare ahia mi hai azzannato allora vedi questo caso è una bacchetta maggiore che la fatta madrina mi vede quando aveva esattamente no 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 è la mia esultanza è la mia esultanza mi è giocato un'altra volta scherzavo ora non mi ha ora ora non l'ho giocato manco per sbaglio ok ora arrivo ora arrivo basta oh no aspetta zanna no ma dai aspetta cupcake potrebbe succedere una cosa brutta ovvero tipo questa come povero wolfie ti vengo a rianimare vengo in toscana da lazio pensa che sarai già morto quando vengo però tentarlo a noi senti io eh dove vivi a direttore ancora più distante chi era che abitava in toscana oddio io sono curiosa che sono pieno di amici che ah mi pare di aver capito se giocate a gorilla tag nel server ita probabilmente lo conoscete forse pinguino forse lui pinguino 2000 lui lo conosce perché lui è un vero oggi player di dei server del server di ita ma come hai fatto ma dai ma brosie le macro monkey 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 ho attivato la jamar culio mod e faccio monkey monkey dove sei? non lo so non so che ti vedo panico 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 ma tipo tanto panico panico totale allora che cos'era? hai fatto così dove sei? uuuuuh no dove sei? sono qui wolfie come non ti ho prego porca vacca raga non c'ho più la voce wolfie non ho più la gambe e neanche qua su gorilla tag ce li ha quindi oh dio nooo aspetta ma io ho capito perché i gorilla hanno tre mani ah ce l'hanno tre dita ma che tre mani ma mi sei volato in bocca aspetta la mia soltancia ora è viva perché sei perché io ti voglio salve no ho messato tanto oh pure ora non c'è capito fai con quali gambe scusa ma io ero qui e tu me vabbè gorilla tag è un bel gioco eh no ma perché in realtà ho usato il bluetooth vabbè è quello che usaresti ora sicuro commenta e scrive tipo eh ma siete voi quelli che mi taggano col bluetooth cambio tu ne hai fatto sta cosa pensa che si il competitive mod si bene io non ci voglio più rientrare lì dentro i traumi per dire tutti tutti gli idee che ho detto per per tutti i santi che vieni qua un attimo ma sai perché io ho la mascherina li vuoi due grammi eh no dai mi dissocio youtube allora youtube non abito con i carabinieri qua davanti io ho i carabinieri qua davanti quindi noi 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 bravi lui occhiali lui bravo io io no io mostro io oh ti do ti do non so non so quanto ti do per far che oddio che carino oddio sei minuscolo compro memoria a chi non è iscritto allora io sono molto arrabbiato 97% di voi che non di voi che vedete il video non siete iscritti e allora che cosa aspetti a discorso di se no io ti vengo a cercare a casa ti devo taggare però che è difficile no sicuro 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 oh 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 vieni qui boom dai vieni quanto c'è carino allora esprima un desiderio aspetta ok esprima un desiderio esprissuto e non dirò quale perché se no non si avvera dai dai un gigante non mi è mangiare da qui in teoria fa tanta paura ti giuro oddio ora sei grande ma se no ti puoi un moscerino che si spiaccica guarda oh mio dio bene ragazzi penso che il video possa finire qui con wolfie le bacchette magiche le bandiere il pinguino l'albero questa maschera questo cappello questo cappello la mascherina questo questo e questo e questo e questo e questo il video finisce qua per il prossimo video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like iscrivetevi come avevo già detto prima vabbè se vi è piaciuto il video mandatelo tutti quanti tutti ho detto tutti anche al vostro cane se ci avete se no un gatto da wolfie che si sminchia è tutto e al prossimo video